Nel calcio a 5 ancora un colpo di mercato per lo Sporting Sala Consilina. Si è assicurato le prestazioni del centrale difensivo Lucas Bocca, 28enne italo-brasiliano che va a colmare il tassello mancante del reparto arretrato. Abbiamo ingaggiato un elemento che per la A2, spiega il patron Giuseppe Detta, è sicuramente un vero lusso con il quale intendiamo fare il salto di qualità. Bocca dal fisico possente nella scorsa stagione ha vestito la casacca del Real San Giuseppe mettendo a segno tra l'altro anche 7 punti. E certamente ha detto il tecnico Fabio Oliva un innesso di grande valore che assicura alla squadra un rendimento elevato e un elemento dotato di una fisicità che rende alla squadra quei chili che in passato sono mancati. Dispone, conclude Oliva, anche di un tiro che spesso fa male alle squadre avversarie e sono convinto che ci darà una grossa mano nel centrare gli obiettivi. Con l'arrivo di Bocca dopo il portiere Marchesano e dei due ex Sanniti Stigliano e Volonnino salgono a quattro i volti nuovi giunti a Sala Consilina ma il mercato del club giallo-verde non si ferma. All'orizzonte si profirano altri innesti andando a pescare tra i formati. Il patron detta ha già messo in canna altri elementi che possono rispondere alle richieste del tecnico Oliva il quale come ha più volte rimarcato non guarda i nomi altisonanti ma le caratteristiche dei vari protagonisti che siano congeniali al suo modo di intendere il futsal. E finora le scelte fatte vanno in questa direzione. Intanto in attesa di conoscere il campo su cui si giocherà la prossima annata, il centro sportivo di San Rufo resta la soluzione principale, è stata già stabilita la data del reduno che sarà a fine agosto.